e che entrambe chiedono scusa al sottosegretario della Libra. Colleghi, se diamo la possibilità a tutti di ascoltare il testo delle riformulazioni, poi evitiamo dopo di dover far ripetere al sottosegretario un'altra volta il testo. Prego. Le due richieste centrali. Una è provvedere affinché il fondo destinato all'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri, eccetera. La seconda è ad applicare il principio in base al quale i soldi trattenuti ai frontalieri debbono essere utilizzati solo e sicuramente a favore dei frontalieri. Occorre che siano precedute dall'espressione valutare la possibilità di provvedere e di applicare. Grazie, signor Presidente. Grazie, sottosegretario. Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto. Abbiamo iscritto l'onorevole Planger, che ha chiesto la parola, ne ha facoltà. Prego. Non è in aula, si intende che abbia rinunciato. Ha chiesto la parola l'onorevole Kronbickler, ne ha facoltà. Prego. Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghi, cari colleghe, io ringrazio la collega Chiara Braga per essersi prese la briga di ripulire la mozione della Lega, presentata così com'era, togliendo alcuni passaggi che, a chiamarli odiosi, non è un'esagerazione. C'era il passaggio, cioè due punti, c'era il passaggio in cui si insinuava che con le risorse messe da parte per l'indinizio di disoccupazione per i frontalieri, cioè per i lavoratori italiani, in Svizzera, quelli sarebbero, diciamo, messi da parte, si pagassero, con questi si pagassero le pensioni di invalidità agli immigrati. Fu veramente una insinuazione perfida. 270 milioni di euro, di questo si parlava, in più, in questo è tutto, in franchi svizzeri, che psicologicamente hanno un valore ancora più alto, quasi, no? Spetterebbero a lavoratori italiani deviati a pensioni di invalidità per immigrati, si intende immigrati illegali e pensioni false, si intende, appunto. In più si è tolta una cosa molto populista, per non dire demagogica, si parlava sempre, si parla di questo tesoretto di 270 milioni. Questi 270 milioni, messi da parte dalla Svizzera, cioè rinviate, insomma, nelle casse dell'Inps, non ci sono. Sono sulla carta e non sono realmente lì, sono già spese, messi a disposizione come sono altre pensioni, quindi reali non sono. Noi abbiamo proposto una divisione, insomma, per badare a questi lavoratori, di cui noi dell'Alto Adige, noi in Sud Tirolo abbiamo un 600, che non sono poveracci, ovviamente. Qualcuno si è scandalizzato perché io ho usato nella discussione generale così certi termini pittoreschi, però certo sono persone, diciamo, fortunate, perché avere oggi la Svizzera vicina, la Svizzera aperta è una benedizione. Quindi noi abbiamo proposto con la nostra mozione, con la mozione di Sinistra Ecologia Libertà di badare, ovviamente, diciamo così, e di salvaguardare i giusti diritti di questi operai, anche perché sono pericolati, insomma, corrono il rischio quando nella Svizzera non perdurerà per sempre questa congiuntura alta e i frontalieri sono i primi poi ad essere, diciamo così, messi in disoccupazione o licenziati secondo la legislazione, diciamo, di lavoro molto più flessibile che vige in Svizzera, affrontando con questa nostra. Però, appunto, di aiutarli a portarli, cioè, alla fine della loro carriera lavorativa. Adesso la mozione, preparata, firmata da noi, ci fa ritirare la nostra mozione, perché ci sembrava, diciamo così, un atto molto coraggioso anche da parte del PD. Nella discussione generale rivendicavano attora esplicitamente, diciamo così, che diamo questi soldi, questo tesoretto di 270 milioni, devono restare a questi lavoratori, dissegnati un po' per poveracci, invece sono confrontati con i nostri, insomma, ben stanti, perché poter lavorare in Svizzera, diciamo così, avere il salario svizzero, poterlo spendere in Italia è un piccolo, diciamo così, privilegio. Questo è tolto, quindi non si fa propaganda e ci va bene. Noi voteremo questa mozione, chiamiamola ecumenica. Grazie. Grazie. È scritto a parlare il deputato Molteni, ne ha facoltà. Prego. Sì, grazie Presidente. Per noi questo è un tema per la Lega, il tema dei frontalieri è un tema importante, è un tema importantissimo. I lavoratori frontalieri, ed è proprio per questo che abbiamo presentato come prima forza politica questa mozione per richiamare l'attenzione del Governo, dell'Aula, della maggioranza e delle forze politiche su un tema e su una categoria di lavoratori particolarmente importante e particolarmente delicata. I lavoratori frontalieri sono cittadini italiani, sono cittadini del Nord, sono lavoratori del Nord che prestano la propria attività lavorativa in terra estera, in modo particolare in Svizzera, in Canton Ticino, ma anche in Austria, in Slovenia, a San Marino. Sono circa 80.000 i lavoratori frontalieri e rappresentano una ricchezza, rappresentano una risorsa importantissima per i nostri territori. Purtroppo, spesso e volentieri, e non è la prima volta che portiamo l'attenzione dell'Aula al dibattito sul tema dei lavoratori frontalieri, l'abbiamo fatto anche nelle precedenti legislature, purtroppo abbiamo avuto l'impressione, l'aletta impressione, che tanto Roma quanto Berna spesso e volentieri si sono dimenticati di questi lavoratori. Si sono dimenticati o peggio, peggio ancora, hanno considerato questi lavoratori, vengono considerati come lavoratori di serie B, vengono considerati come lavoratori discriminati, vengono considerati come lavoratori che non meritano una tutela particolare. Ed è per questo, proprio per la distanza che spesso Roma, indipendentemente dai governi, e lo diciamo in maniera chiara, indipendentemente dai governi, spesso e volentieri questi lavoratori hanno riscontrato da parte dei provvedimenti dei governi difficoltà, ostacoli. Diciamo in maniera chiara, e lo dico anche al collega Di Selle, che è intervenuto poc'anzi, i lavoratori frontalieri non sono degli evasori fiscali, caro collega, non sono dei privilegiati. Il collega Di Selle, durante il dibattito a questa mozione addirittura aveva definito i lavoratori frontalieri come dei contrabbandieri. Caro collega Di Selle, si vergogna definire i lavoratori frontalieri come dei contrabbandieri. Sono delle persone oneste che rappresentano una ricchezza e per il canton Ticino e per il nostro territorio. Lavoratori che noi vogliamo difendere, lavoratori che noi vogliamo tutelare nelle proprie prerogative, perché sono lavoratori che portano professionalità, che hanno competenza, che portano know-how e pertanto meritano di essere tutelati rispetto a un governo centrale troppe volte e troppo spesso sordo rispetto alle istanze di questi lavoratori. Noi abbiamo parlato di lavoratori frontalieri spesso e volentieri con riferimento allo scudo fiscale, con riferimento al redditometro, con riferimento al fisco velox, con riferimento al rapporto tra Italia e Svizzera, un rapporto fondamentale che deve essere garantito, tutelato e mantenuto in modo particolare con il canton Ticino rispetto al quale c'è un'identità da un punto di vista economico, sociale, ma anche di natura culturale. E noi vogliamo che i rapporti con questo territorio siano stretti e siano garantiti dalla massima trasparenza. In modo particolare con questa mozione gli aspetti che riguardano le problematiche dei lavoratori frontalieri sono tante, sono tantissime, però noi vogliamo puntare l'attenzione su un problema e in modo particolare su un fondo e in modo particolare su una somma. Sono i 270 milioni di euro che sono il fondo di disoccupazione dei lavoratori frontalieri, ovvero le trattenute sulle buste paga dei lavoratori frontalieri che la Svizzera retrocede all'Inps attraverso una gestione separata. E con questi soldi, con questi fondi che sono i fondi e i soldi dei lavoratori frontalieri per anni è stata pagata la disoccupazione, 12 mesi all'80%. I rapporti Italia-Svizzera sulla disoccupazione e sulla sicurezza sociale e sulla previdenza sociale sono sempre stati gestiti da un accordo bilaterale, cessato nel 2002, prorogato per volontà dell'Italia nel 2009 e poi sono cessati e oggi i rapporti sono disciplinati attraverso il diritto comunitario. Alla luce di ciò, oggi, ai lavoratori disoccupati, e ricordiamolo, parliamo di 60 mila lavoratori, parliamo di 1.500 disoccupati, di cui solo 400-500 nella provincia di Comodo a cui provengo, oggi la disoccupazione non viene più pagata con questo fondo, con questi 270 milioni, ma viene pagata, è stata pagata prima con la disoccupazione ordinaria e poi dal 1 di gennaio con la vergognosa legge Fornero, l'Aspi e il Mini-Aspi. E quindi noi chiediamo al Governo, il timore che noi abbiamo è che questi 270 milioni di euro, soldi dai lavoratori frontalieri, soldi che derivano dalle trattenute sulle buste paghe dei lavoratori frontalieri, oggi possano essere scippati e Roma possa esercitare l'ennesima rapina di Stato a danno dei nostri lavoratori. e noi questo non lo possiamo permettere. Sono soldi dei frontalieri, tali devono rimanere, sono soldi che hanno un vincolo che deriva da una legge, la 147 del 97, legge che ancora esistente non è stata cancellata dalla legge comunitaria per cui pretendiamo certezze, garanzia e trasparenza. Vogliamo che su questo fondo, che oggi è all'Inps, ci sia un nome e un cognome, ci sia scritto lavoratori frontalieri e non vogliamo che questi soldi possano mai essere utilizzati dall'Inps per poter chiudere quel buco, quel buco nero che l'Inps rappresenta o peggio ancora magari essere utilizzati dal Ministero del Lavoro e da Roma per tappare qualche falla dei debiti che ci sono o peggio ancora possono essere utilizzati per pagare altro. Per questo noi abbiamo presentato questa mozione. Non è una bandierina politica, ma è semplicemente il tentativo da parte della Lega di garantire e di far sì che ci sia da parte del Governo la giusta consapevolezza dell'importanza di questi lavoratori che voglio rappresentare che sono in netto aumento, vuol dire che fungono da ammortizzatore sociale. Oggi purtroppo la crisi economica sta colpendo i nostri territori, sta colpendo anche il nord, il nord ricco e oggi il lavoro frontaliere rappresenta una risorsa importante. Vogliamo ricordare che grazie ai lavoratori frontalieri vengono stornati ai nostri comuni, ai comuni del nord, in sofferenza economica, ai ristorni, somme assolutamente necessarie per poter garantire i servizi. Ed è per questo che noi pretendiamo, lo diciamo con forza, lo diciamo con grande determinazione, non accettiamo alcun tipo di equivoco da parte del Governo, non vogliamo risposte superficiali, vogliamo una garanzia. Vogliamo una garanzia per questi lavoratori, vogliamo la garanzia che questi soldi, che sono soldi loro, che sono soldi che si sono guadagnati con la fatica, che si sono guadagnati col sudore, che garantiscono ricchezza al nord e che garantiscono anche professionalità, competenze, know-how in Cantonticino, in Svizzera e negli altri territori esteri vengano garantiti. Regione Lombardia, Regione Lombardia si è impegnata in tal senso. Voglio ricordare, e lo ricordo anche agli amici del PD che hanno presentato una mozione analoga in cui si chiede la costituzione di un tavolo. Va bene, facciamo l'ennesimo tavolo. Io voglio ricordare, io arrivo da Cantù, noi siamo bravissimi, Cantù la patria del mobile, siamo bravissimi a fare mobili, però ricordiamoci e ricordatevi che sono i diritti dei lavoratori che noi dobbiamo tutelare e non assecondare semplicemente le volontà o le necessità di qualche sindacato. Vanno bene i tavoli, voglio ricordarvi che vi sono già due tavoli che si occupano dei problemi del frontalierato. In Regione Lombardia, la Lombardia governata da Roberto Maroni, è stata istituita una commissione speciale per disciplinare i rapporti Italia-Svizzera. Esiste un organismo territoriale che si chiama Regio Insubrica, che ha la funzione di mettere attorno al tavolo tutti gli interlocutori locali per discutere dei problemi del frontalierato. I tavoli vanno bene, ma noi oggi abbiamo una priorità, una necessità che è quella di tutelare i diritti dei lavoratori frontalieri e di tutelare il fondo di 270 milioni di euro. La Lega non accetta arretramenti, la Lega non accetta rapine di questi soldi, non accettiamo l'ennesimo scippo da parte del Governo di Roma. Signor Ministro, e chiudo, Sottosegretario, accettiamo le riformulazioni, chiediamo una cortesia che, laddove viene chiesto di valutare la possibilità, ciò venga fatto all'interno di un arco temporale definito. Non vogliamo gli impegni a lungo termine, che poi sappiamo difficilmente vengono mantenuti, vogliamo un impegno chiaro, tassativo, entro un termine preciso e determinato. A questa condizione la Lega darà il proprio assenso alla votare questa mozione che, ripeto, rappresenta un'ancora di salvezza. Questi 270 milioni di euro sono un'ancora di salvezza per i nostri lavoratori, per i lavoratori del Nord. Grazie. È scritta a parlare per dichiarazione di voto il deputato Antimo Cesaro. Prego, ne ha facoltà. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, le mozioni discusse in Aula e che ci apprestiamo a votare sono espressione di un problema particolarmente avvertito, soprattutto in questo periodo di crisi occupazionale. I dati denunciano una situazione molto seria, aggravata dal numero sempre crescente di lavoratori frontalieri italiani occupati nel canton Ticino, nei paesi confinanti, oltre che presso la Repubblica di San Marino e la città del Vaticano. Facendo riferimento ai soli dati dell'Ufficio federale di statistica Svizzero, si parla di oltre 58 mila unità, con rilevazione del 30 giugno scorso. Le politiche del lavoro transfrontaliero sono state al centro dell'attenzione del Parlamento italiano anche nel corso delle passate legislature. In particolare, la presenza di un così gran numero di lavoratori impiegati in Svizzera ha indotto l'Italia e la Confederazione elvetica a negoziare numerosi accordi bilaterali, per regolare soprattutto questioni riguardanti la previdenza sociale, l'imposizione fiscale e le indennità di disoccupazione. Nonostante la crisi economica generalizzata e le difficoltà che attraversano i diversi paesi europei confinanti, la Svizzera, in particolare, riesce a offrire occupazione e mantenere attivo il proprio processo di sviluppo economico. Questo avviene anche grazie al lavoro e ai sacrifici, e sottolineo, al lavoro e ai sacrifici quotidiani degli stranieri residenti e dei nostri frontalieri. Negli anni passati si è cercato di dare risposta alle esigenze di quanti lavorano oltre frontiera, attraverso numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di leggere recanti modifiche alla legge 5 giugno 1997, numero 147. La normativa vigente stabilisce che sia lo Stato di residenza a farsi carico del pagamento dell'indennità di disoccupazione. Nello specifico, i lavoratori frontalieri sono assoggettati a una trattenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera, che viene poi in parte trasferita dalla Svizzera all'Inps, sulla contabilità separata destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Una disposizione contenuta negli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea ha previsto che, a partire dal giugno del 2009, la Svizzera non sia più tenuta a versare all'Italia i contributi per la disoccupazione, anche se i frontalieri italiani continueranno ad avere le relative trattenute sulle buste paga della Svizzera. Anche dopo l'interruzione del trasferimento dei versamenti da parte della Svizzera, le prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri sarebbero state garantite in Italia dalla legge 147 del 1997, che stabilisce il pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione fino all'esaurimento del fondo giacente nella gestione separata dell'Inps, che oggi ammonta o, come qualcuno ha detto, ammonterebbe a circa 270 milioni di euro. A partire dal giugno 2009 si è completata l'applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che prevedono norme specifiche in materia di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri. In termini di sicurezza sociale sarebbe stato di enorme rilevanza l'approvazione della legge per il trattamento di disoccupazione dei frontalieri. Come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, nella circolare numero 50 del 2013 diffusa dall'Inps è evidenziato che i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera hanno diritto dal 1 gennaio 2013 alle indennità dell'Aspi e della Mini-Aspi. A riguardo, l'Inps rammenta che l'accordo con la Svizzera, avendo ad oggetto l'indennità di disoccupazione scaduto il 31 maggio 2009, non è stato ahimè più rinnovato. Di conseguenza, il disoccupato frontaliero residente in Italia riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa. Concludendo, le richieste di impegno al Governo della mozione Braga-Pizzolante, che anche Scelta Civica ha sottoscritto, sono tutte chiare e condivisibili. Si chiedono spazi di confronto e strumenti di intervento per fronteggiare le problematiche dei lavoratori frontalieri, anche in considerazione delle modifiche intervenute all'indennità di disoccupazione speciale, ex legge 147 del 1997. Occorre su questo punto chiarezza e onestà intellettuale. Ha fatto bene a sottolinearlo il collega Molteni. Chiarezza e onestà intellettuale non scevra da concretezza per la tutela dei diritti di questi lavoratori. La questione, in termini di concretezza, è quella del ripristino del fondo, implementato con trattenute dello stipendio dei lavoratori italiani all'estero. Condividiamo dunque la mozione presentata pur nella formulazione prospettata dal Governo, pur sollevando qualche preoccupazione in merito alla preventata destinazione del fondo per i lavoratori frontalieri ad uso diverso rispetto a quello destinato per legge. Questo non lo riteniamo né giusto né equo. Si tratta dei soldi di questi lavoratori e non possono essere destinati ad altre finalità. Apprezziamo quanto chiesto come impegno al Governo nella speranza che si giunga al più presto all'istituzione di un tavolo di confronto al fine di una corretta attuazione della legge 147 del 97, superando eventuali sperequazioni tra sacrifici affrontati da lavoratori e garanzie che devono sempre ad essi essere assicurati. Grazie. Grazie. È scritto a parlare il deputato Sergio Pizzolante. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Onorevole Sottosegretario, questo è un giorno importante per circa 70.000 lavoratori italiani. Sono i lavoratori frontalieri che tutti i giorni escono dal nostro Paese per andare a lavorare in un Paese estero. 48.000 soltanto nel canton Ticino, 8.000 negli altri cantoni svizzeri, 4.000 fra il Principato di Monaco e la Francia, 6.000 nel piccolo Stato di San Marino. È un fenomeno strutturale del mercato del lavoro, ma è un fenomeno rilevante. Faccio presente che 70.000 lavoratori corrispondono a circa i lavoratori di tre gruppi Fiat, tre volte la Fiat in Italia. Producono reddito all'estero e lo portano in Italia. Rappresentano una realtà rilevante dal punto di vista economico, sociale, per le province limitrofe ai Paesi che ho citato prima. Sono lavoratori spesso con alta qualificazione, situazione molto diversa di quella che conosciamo che ha riguardato i nostri padri e i nostri nonni. Sono lavoratori che fanno, come quelli ma con funzioni diverse, onore all'Italia. Contribuiscono alla crescita di molte aziende all'estero. Sono spesso ambasciatori del lavoro italiano all'estero. Spesso qualificano aziende all'estero rappresentative della qualità italiana nella ristorazione, nella moda, nel turismo. E ciò nonostante vivono da troppo tempo, hanno vissuto in una terra di nessuno, con incertezze sul piano fiscale previdenziale e problemi di sicurezza sociale e di regolazione del lavoro e di stabilità del rapporto di lavoro. L'Italia si è occupata di loro in questi anni soltanto quando si è trattato di incassarne le tasse. E da questo punto di vista io sono d'accordo con il collega Molteni. Non è accettabile l'intervento fatto in quest'Aula dal rappresentante di SEL che ha detto che questi lavoratori sono i legittimi eredi dei contrabbandieri di un tempo. Non è assolutamente accettabile. Poi ho visto che il collega di SEL ha firmato la mozione unitaria. Spero che si sia trattato di un pentimento vero e non di un atto di trasformismo che sarebbe inaccettabile. L'Italia quindi si è occupata di loro soltanto quando ha riscosso le tasse. Sono lavoratori che producono reddito lontano da casa, pagano le tasse all'estero ma pagano le tasse anche in Italia. Guadagnano meno dei loro colleghi con i quali lavorano tutto il giorno gomito a gomito in condizioni disagevoli rispetto agli stessi colleghi. E hanno più problematiche dei loro colleghi dal punto di vista delle coperture sociali e lavorative. Con questa mozione l'Italia e questo Parlamento fanno un passo in avanti importante. Gli obiettivi della mozione sono chiari e sono l'obiettivo di apertura di un tavolo di confronto permanente con le associazioni sindacali delle regioni interessate a questo fenomeno per la definizione di uno statuto del lavoro frontaliero, per la ripresa dei negoziati, per gli accordi bilaterali capaci di regolare questi rapporti di lavoro, per una specifica disciplina del lavoro frontaliero. Inoltre per regolare i rapporti fiscali attraverso leggi ordinarie capaci di dare stabilità alla struttura retributiva e fiscale di questi rapporti di lavoro. In tal senso, ad esempio, c'è l'accordo appena firmato e appena ratificato da questa Camera che riguarda l'accordo bilaterale Italia-San Marino che prevede una specifica legge ordinaria di stabilizzazione del rapporto di lavoro, di stabilizzazione delle dinamiche fiscali e del rapporto fiscale fra Italia a San Marino. In tal senso è auspicabile anche un incontro con la Svizzera, per garantire nel breve tempo. Inoltre, è stato inserito nella mozione, ed è importante che il Governo sia reso disponibile, abbia preso l'impegno a sostenerla, la necessità in attesa di regolare per legge questi rapporti di lavoro, di garantire la franchigia per i lavoratori frontalieri, sia i lavoratori che lavorano a San Marino che quelli che lavorano in Svizzera che quelli che lavorano in Francia. Il Governo si è impegnato a sostenere iniziative parlamentari. Annuncio che ci saranno già per la legge di stabilità iniziative parlamentari del PDL. Presenterò io stesso un emendamento alla legge di stabilità per garantire la franchigia per anche il prossimo anno e per abolire l'acconto per il 2014 che molti problemi economici sta creando ai nostri lavoratori. Per questo, e per poi meglio definire le questioni previdenziali, la questione della gestione separata dell'Inps e il trattamento di disoccupazione al quale hanno diritto anche i lavoratori frontalieri, per tutte queste ragioni abbiamo presentato la nostra mozione, abbiamo unificato la mozione con i partiti di maggioranza e davvero salutiamo questo giorno come un giorno importante per 70.000 lavoratori italiani. Grazie. Grazie. È scritto a parlare per dichiarazione di voto il deputato Tiziano Arlotti. Pregone a facoltà. Presidente, colleghi deputati, chi vi parla è stato lavoratore frontaliero. Sono andato a lavorare a San Marino, a fare quei lavori che i sanmarinesi non facevano perché potevano scegliere lavori migliori, cioè quello di operaio in una fonderia. E quindi comprendo bene qual è l'importanza di questo giorno, così come qual è l'importanza che questo riveste per circa 70.000 lavoratori frontalieri in tutto il nostro Paese. Lavoratori che hanno sempre avuto precarietà, precarietà e in molti casi significa anche dovere subire, precarietà nel rapporto di lavoro, nella sua durata, precarietà nei trattamenti, nelle assistenze, in quelli legati soprattutto agli ammortizzatori sociali, ma soprattutto precarietà nel trattamento fiscale, che si protrae di anno in anno senza una definitiva soluzione con una legge ordinaria. Quando un lavoratore frontaliero il 2 gennaio inizia a lavorare, non sa quale sarà la sua reale retribuzione, su quale sarario potrà contare per il suo sostentamento, per quello della propria famiglia, dei propri cari. Sa che deve dare il meglio di se stesso per onorare, come ricordato solennemente in questa aula, nel suo discorso di insediamento Sandro Pertini, il suo Paese col suo lavoro all'estero. Credo che le ingiustizie che sono state pagate in questi anni sono anche ingiustizie che hanno creato anche degli stereotipi sbagliati, degli stereotipi in cui qualcuno considerava i frontalieri dei privilegiati, da un lato, dall'altro addirittura degli evasori. Bene, di tutto questo non c'è nulla. C'è solamente la fatica, c'è solamente l'alzarsi tutti i giorni per varcare un confine, andarsi a guadagnare un reddito per poter sostenere poi la propria famiglia in Italia. E devo dire che in questi anni la precarietà c'è stata anche rispetto all'attenzione che il Paese ha avuto nei confronti dei lavoratori frontalieri. Pensate, solo da noi, nella Repubblica di San Marino ci sono ad oggi quasi 6.000 lavoratori frontalieri. È la più grande fabbrica dell'Emilia Romagna, se così vogliamo definirla. Nella legge di stabilità, come ricordava anche il collega Pizzolante, noi dobbiamo dare immediatamente una risposta. Abbiamo tre progetti di legge depositati che vanno affrontati. Va affrontato il tema dello statuto dei lavoratori frontalieri, nel senso che dobbiamo riconoscere qual è la condizione, come tutelarla, perché dobbiamo tutelare soprattutto con questi interventi quello che è un diritto sacrosanto di ognuno. La Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Sul lavoro le persone danno dignità a se stesse e attraverso se stesse danno dignità anche alle loro famiglie. Quindi quello che presenteremo anche nel testo della legge di stabilità dovrà andare in questa direzione, dovrà rispettare il trattato che abbiamo appena ratificato fra Italia e Repubblica di San Marino, che l'articolo 15 dice che deve essere definitivamente stabilita una norma che tuteli per sempre i lavoratori frontalieri. Grazie. È scritto a parlare in dichiarazione di voto la deputata Jessica Rostellato, pregone a facoltà. Grazie Presidente. Colleghi, Sottosegretario, il lavoro frontaliero è divenuto ormai un fenomeno strutturale del mercato del lavoro, che contribuisce a dare impulso al sistema produttivo e rappresenta altresì una risorsa per l'economia delle province italiane di confine, dovendosi altresì tener conto della crisi occupazionale che attanaglia il nostro Paese. La condizione dei lavoratori frontalieri italiani è evidentemente piuttosto particolare. La domanda aumenta nei periodi di crescita industriale, ma i frontalieri sono poi proprio coloro che risentono maggiormente dei tagli dei posti di lavoro nei momenti di crisi, senza inoltre poter usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione svizzera. Dunque, una situazione del tutto particolare è quella dei frontalieri, che in un panorama del mondo del lavoro italiano già di per sé disastrato, si inseriscono come fenomeno specifico ricco di criticità da eliminare al fine di ridare ai lavoratori frontalieri la pienezza dei diritti. Anche in sede di discussione generale si è avuto modo qui in Aula di rilevare le anomalie del trattamento nei confronti dei lavoratori frontalieri. È quantomeno opportuno sottolineare le specificità e l'importanza del lavoro frontaliero nel nostro contesto economico e sociale, al fine di superare i diversi provvedimenti governativi adottati negli ultimi anni, che hanno ignorato la specificità dello status di lavoratore frontaliero e alimentato varie problematicità. Per il Movimento 5 Stelle i soldi del Fondo di disoccupazione speciale devono essere utilizzati con gestione separata, sino a esaurimento, perché si tratta di un fondo finanziato direttamente dai versamenti dei lavoratori frontalieri. Così come è assolutamente indispensabile intraprendere ogni iniziativa utile a ripristinare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri. Non è accettabile che i fondi versati a favore dei lavoratori frontalieri vengano utilizzati per altre finalità. Non è accettabile che i lavoratori frontalieri vengano penalizzati per far tornare i conti dell'Inps. Dove sono finiti i soldi di questo fondo? Erano loro e sono stati rubati. A noi non piace questo modo di procedere. Si continua a rompere il patto fra Stato e cittadini. Per questo sosteniamo e voteremo a favore la mozione 100183 Molteni. Ci dispiace che il Governo abbia cercato di snaturare e sminuire le finalità di questa mozione, che secondo noi non voleva che far valere i diritti legittimi di persone che chiedono solo ciò che spetta loro. Ci auguriamo che almeno il Governo prenda seriamente in considerazione quanto promesso. Per quanto riguarda la mozione Braga 10013, condivisa dagli altri gruppi politici, il Movimento 5 Stelle si asterrà, in quanto riteniamo che mai, come in questo caso, si possa parlare di diritti acquisiti e quindi non possiamo accettare di accontentarci di mezze misure e soluzioni palliative. I fondi per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione devono essere utilizzati per lo scopo cui erano stati inizialmente destinati. Predisporre uno Statuto dei lavoratori frontalieri può essere positivo, ma solo dopo che saranno ripristinati i diritti sull'accesso al trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. Grazie. È scritta a parlare per dichiarazione di voto la deputata Chiara Braga. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Il Partito Democratico voterà la mozione che ha presentato insieme agli altri gruppi di maggioranza e esprimerà un voto favorevole anche sulla mozione proposta dalla Lega Nord. Noi crediamo che oggi in quest'Aula si compia un passo importante, vale a dire quello di definire finalmente, con un impegno che noi non consideriamo rituale, ma appunto impegnativo da parte del Governo, la necessità di attuare una serie di misure e di adempimenti che riguardano la questione dei lavoratori frontalieri. Vorrei dire in premessa una cosa anche alla luce delle dichiarazioni che si sono sentite nel corso del dibattito, in discussione generale e anche nella discussione di questa sera. L'eccessiva semplificazione e una certa dose in qualche modo di calore anche politico nel discutere di questi temi non aiuta a comprendere pienamente la complessità e le reali caratteristiche del fenomeno del lavoro frontaliero. Sappiamo che i temi che sono sul tappeto, che riguardano le questioni del trattamento dei lavoratori, le questioni fiscali, i rapporti con gli Stati esteri, sono questioni complesse e che per questo motivo richiedono anche una capacità di riflessione, di ricerca di soluzioni a cui noi abbiamo guardato nel preparare e nel lavorare alla nostra mozione. Nemmeno il Partito Democratico è interessato a mettere bandierine. Noi siamo interessati a trovare delle soluzioni, a risolvere i problemi che sono sul campo e che tutte le stagioni di governo, comprese quelle che hanno visto per lungo tempo la Lega Nord in una piena responsabilità di governo, non sono riuscite a trovare una soluzione in via definitiva delle tante problematiche aperte. Crediamo che questa situazione dipenda anche da una condizione oggettiva che pone la questione del lavoro frontaliero come una questione di natura quasi locale, cioè come un tema residuale che interessa soltanto i territori di confine, le popolazioni che vivono nelle aree a confine con gli Stati esteri. In realtà non è così e ce lo dicono le cifre dei lavoratori impiegati in un rapporto di lavoro frontaliero che sono state ricordate prima di me dai colleghi che sono intervenuti. Sono lavoratori che vivono in Italia, che prestano la loro attività lavorativa all'estero, ma che vivono in Italia, che consumano in Italia e che portano la loro ricchezza nel nostro Paese. Basta ricordare un dato molto significativo che per quanto riguarda il rapporto del nostro Paese con la vicina confederazione elvetica, ci dice che il nostro Paese ha un volume di interscambio con la Svizzera di quasi 29 miliardi di euro, che determina un saldo positivo per il nostro Paese annualmente di quasi 2 miliardi di franchi svizzeri l'anno. Questo ci fa rendere conto della misura e della rilevanza del tema e anche della necessità di poterlo guardare con una chiave di lettura oggettiva e libera da pregiudizi o semplificazioni che certo non aiutano a trovare una soluzione al problema. Noi che da anni ci occupiamo di queste questioni sappiamo bene quanto l'assenza e la mancanza di un quadro di riferimento certo abbia spesso esposto i lavoratori frontalieri e lo stesso Paese in una condizione di debolezza nei confronti degli altri Stati. Cito il caso della Svizzera, che è quello che conosco meglio per la mia provenienza territoriale. La questione dei capitali, del segreto bancario, della revisione degli accordi bilaterali ha spesso visto il tema del lavoro frontaliero come un terreno di scontro e di ricatto e come ha prodotto una serie di ritorsioni inaccettabili per i nostri lavoratori. Non dimentichiamo le campagne xenofobe che hanno colpito i lavoratori frontalieri e che non sempre hanno visto una risposta compatta nemmeno dalle forze politiche del nostro Paese. Noi stiamo per guardare alla realtà e alla complessità dei problemi e a costruire le condizioni perché in un quadro comunque in evoluzione che vede anche il rapporto tra l'economia trasfrontaliera, oggetto di trasformazioni rilevanti in questa fase storica, la possibilità di mettere mano ad una serie complessa di questioni. La ripresa delle trattative, ad esempio con la Confederazione elvetica, grazie anche a un impulso che lo scorso Parlamento ha posto al Governo in carica e che questo Governo sta portando avanti, è un tema aperto che riguarda questioni di carattere fiscale, previdenziale, ma anche questioni che riguardano lo sviluppo del nostro Paese. Penso a tutta la questione dei trasporti trasfrontalieri, allo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e stradali. La creazione di un clima di confronto sereno che possa mettere anche il nostro Paese nelle condizioni di confrontarsi e di ottenere dei risultati positivi è un valore aggiunto a cui tutto il Paese, non solo i territori di confine, devono guardare come un tema di primario interesse. È in questo senso che noi ci siamo fatti carico di raccogliere una richiesta che è venuta anche dalla rappresentanza dei lavoratori frontalieri dei territori di confine per impegnare il Governo a promuovere la costituzione di un tavolo di confronto che metta insieme non solo le rappresentanze sindacali dei territori di confine, ma anche le regioni territorialmente competenti. Lo ricordava bene prima il collega Molteni nel suo intervento. Anche la Regione Lombardia, su un tema specifico sul quale tornerò più tardi, ha assunto una posizione decisa per invitare il Governo a prendere un'iniziativa rispetto alla questione del trattamento di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri. Crediamo che questo tema, insieme a molti altri, debba diventare oggetto di discussione e di verifica presso un tavolo tecnico che non è un tavolo come gli altri, ma è un tavolo che deve avere lo scopo di risolvere e mettere mano alle questioni aperte, di definire una piattaforma organica di richieste e di esigenze, con l'obiettivo di arrivare a definire quello che abbiamo definito e chiamato nella mozione che oggi votiamo uno statuto dei lavoratori frontalieri, che possa essere un canovaccio, un punto di riferimento omogeneo per affrontare anche la ripresa e la revisione dei negoziati internazionali e che porti ad una specifica disciplina del lavoro frontaliero e a una regolazione del trattamento fiscale, uno strumento fondamentale che può servire, che deve servire anche al nostro Paese nel rapportarsi agli Stati esteri e anche al confronto con la Comunità europea per la revisione di tutte le questioni che sono aperte sul campo. Tra gli altri temi noi abbiamo chiesto in qualche modo che si metta a mano con urgenza, già a partire dalla discussione che faremo nelle Camere nelle prossime settimane sulla legge di stabilità, alla questione a cui faceva riferimento il collega Arlotti nella sua dichiarazione di voto, cioè alla stabilizzazione della franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero nelle zone di frontiera. Purtroppo anche questo è uno di quei temi sui quali la ricerca di soluzioni è sempre stata definita in maniera, come dire, in corsa e la mancanza di stabilità ha spesso generato difficoltà e incertezza per i lavoratori frontalieri. Crediamo che ci debba essere un impegno su cui noi chiameremo il Governo, come dire, a dar corso a quanto oggi votiamo con questa mozione già nella discussione sulla prossima legge di stabilità. E vengo all'ultimo punto su cui l'intervento accalorato anche del collega Molteni si è concentrato in maniera particolare, la questione dell'indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri presso la vicina Confederazione Elvetica. Nel nostro Paese esiste dal 1997 una legge specifica che regolamenta il trattamento di disoccupazione dei lavoratori frontalieri e che prevede la corrisponsione ai frontalieri di un'indennità speciale di disoccupazione sostenuta economicamente con le trattenute alla fonte sul salario dei lavoratori frontalieri e retrocesse dalla Svizzera all'Italia presso un fondo a gestione separata istituito presso l'Inps. Con l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari tra lo Stato italiano e la Comunità europea è stata definita una nuova disciplina ed è stata prevista l'estensione e l'applicazione delle indennità di disoccupazione secondo il sistema comunitario. Su questo punto noi siamo intervenuti più volte con interrogazioni chiedendo all'Inps di fornire delle precisazioni e delle rassicurazioni perché i fondi che sono stati versati nel tempo dei lavoratori frontalieri vengano mantenuti nella loro destinazione originaria e si trovi proprio nell'ambito del lavoro che noi crediamo debba iniziare al più presto del tavolo tecnico una soluzione in grado di salvaguardare le esigenze e le tutele legittime e totalmente difendibili e sostenibili dei lavoratori frontalieri. Io credo che con questo voto dell'Aula oggi facciamo un passo avanti importante e chiediamo al Governo, lo diciamo subito al Signor Sottosegretario che ringraziamo anche per l'attenzione con cui ha seguito la materia, che su questo punto noi ci aspettiamo azioni coerenti e concrete che seguano in tempi brevi perché affrontare realmente il tema del lavoro frontaliero vuol dire affrontare un pezzo dei problemi anche di tenuta dell'occupazione e di tenuta del lavoro nel nostro Paese. Noi pensiamo che questo passaggio non sia un passaggio rituale e che con queste mozioni inizia un percorso che come deputati del Partito Democratico incalzeremo e sosterremo per quanto di competenza e per questo motivo esprimiamo un voto favorevole su entrambe le mozioni in discussione. Grazie. A proposito della riformulazione, credo che il rappresentante del Governo, alla luce degli interventi che ha ascoltato, voglia riprecisare. Prego, la parola al Sottosegretario della Ring. Grazie, signor Presidente. Sì, esatto. Vi è una richiesta avanzata dai proponenti della mozione Molteni che il Governo ritiene ragionevole, in quanto si chiede di porre un termine a quella attività di valutazione che il Governo ha suggerito di anteporre a due delle quattro richieste di impegno del Governo. E quindi questo mi sembra ragionevole che entro un termine si dia almeno una risposta di questa valutazione e naturalmente impegno mio personale che la risposta sia positiva su tutti i punti sollevati. Questo termine può essere fissato nel maggio del 2014, modo tale da dare tempo proprio a quel tavolo che si vuole costruire, di operare e di avere la necessaria prospettiva per arrivare a una conclusione in tempi certi. Quindi, ritornando e riassumendo in modo tale che sia tutto chiaro, quell'impegna il Governo della mozione Molteni è diviso in quattro parti, quattro capoversi. Il primo favorevole, cancellando la parola ingiustamente. Il secondo favorevole, premettendo valutare la possibilità entro il mese di maggio del 2014 di provvedere affinché. La terza uguale, valutare la possibilità entro il mese di maggio del 2014 di applicare il principio e l'ultimo capoverso favorevole. Grazie, signor Presidente. Grazie. Con questa ulteriore proposta di riformulazione che mi sembra sia accettata dai proponenti, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Molteni ed altri, numero 1 183, su cui il Governo ha espresso parere favorevole con la riformulazione letta dal sottosegretario. È aperta la votazione. Prego i colleghi di affrettarsi ai propri posti. Vecchio Gribaudo Gianni Farina Gallo Luigi Ci sono Fioroni Gribaudo ancora non riesce a votare Rostan Grazie 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 a tutti